Mi chiamo Gabri Costa, ragazzi. Dopo aver fatto tanta strada in questo Mortal Kombat 1 della modalità storia, finalmente siamo arrivati al quattordicesimo capitolo. E sapete cosa si deve fare? Dobbiamo usare Liu Kang. Dobbiamo sconfiggere Baraka, che è dell'altra dimensione, dell'altra linea temporale, ma non è da solo perché ha con sé il suo cameo Reptile. E invece il nostro Liu Kang ha il suo cameo, Kitana. Se non avete notato, è cambiato parecchio Liu Kang, è diventato dio del fuoco e protettore del regno della terra. Bene, mi sembra che abbiamo finito, abbiamo vinto. Vi saluto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace.